Io non so quanti di coloro che ci stanno guardando, sono consapevoli che i giornalisti sono una strana casta. Ci sono circa 10.000 giornalisti che in un anno non guadagnano 5.000 euro lordi, tasse comprese, dalla loro attività. E ce ne sono altri 20.000 che non arrivano a 10.000 euro. È una ben strana casta quella che funziona così. La responsabilità di queste è della miopia diffusa di troppi editori che moltiplicano i loro altri affari rispetto a quello dell'informazione e non investono mai a tutela di quello che è un diritto fondamentale dei cittadini, appunto il diritto all'informazione.